E' dovuta atterrare l'eliambulanza lungo la via Flamine in località Sterpeti nel comune di Monte Felcino per trasportare all'ospedale Torrette di Ancona uno dei quattro feriti del grave incidente stradale che si è verificato poco dopo le 9 di questa mattina. Tre i veicoli coinvolti, due autovetture che stavano procedendo entrambe in direzione Fano ed un autocarro con cassone che procedeva in direzione Fossombrone. Ancora poco chiare le esatte dinamiche dell'incidente, al vaglio in queste ore dei carabinieri che sono intervenuti sul posto ma secondo le prime ricostruzioni l'autocarro di una piccola impresa edile che trasportava della Sabbione con uno dei titolari alla guida, forse per un colpo di sonno o per una distrazione dell'autista ha improvvisamente invaso la corsia opposta mentre sopraggiungevano le due autovetture. La prima ad essere colpita dall'autocarro ma fortunatamente solo lungo la fiancata a sinistra è stata la prima, una Fiat 500 L con a bordo una donna di calcinelli di 47 anni che stava recandosi al lavoro mentre ad avere la peggio è stata la seconda auto, una Lancia Ypsilon contro la quale l'autocarro impazzito ha praticamente fatto un frontale, dilaniando completamente le lamiere dell'auto. Al suo interno due donne, la più giovane di 33 anni alla guida e dal suo fianco la suocera di 79 le due malcapitate erano di ritorno dall'ospedale di Fossombrone dove l'anziana signora si era recata per eseguire degli esami tra le due le conseguenze peggiori però le ha subite la 33enne con una sospetta frattura del bacino e forse anche ad una gamba trasportata d'urgenza quindi dall'eleambulanza ad Ancona Mentre la 79enne che accusava forti dolori, probabilmente dovuti al contraccolpo con le cinture di sicurezza i sanitari del 118 l'hanno trasportata per accertamenti all'ospedale di Urbino dove è stato anche trasportato l'operaio alla guida dell'autocarro La donna della prima auto invece si è recata autonomamente all'ospedale di Fossombrone per gli accertamenti del caso Sul posto dell'incidente due pattuglie dei carabinieri di Monbaroccio per i rilievi ed una della polizia locale di Colli al Metauro per regolamentare la viabilità a senso alternato durante le operazioni di soccorso e di rimozione degli autoveicoli ed una squadra anche dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto incidentate rimosse poi in seguito con alcuni carriattrezzi Grazie